I giocatori hanno bisogno di riposarsi, hanno bisogno di vacanze. Parole dette da Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa che ha preceduto il primo incontro della Liga tra Real Madrid e Mallorca. Anche Jurgen Klopp, se ci pensate, ai tempi del Liverpool, ogni anno metteva in evidenza questo problema. Ricordiamo il 2020, febbraio, partita di FA Cup, per protesta Klopp a mandare in campo solamente calciatori della primavera, perché contro un calendario, quello inglese e non solo, troppo ricco di impegni e la gran parte di questi impegni, tristemente, troppo ravvicinata. E torniamo al nostro Real, torniamo a Real Madrid di Carlo Ancelotti, Liga Spagnola, Coppa del Rey, Supercoppa Spagnola, Champions League e a giugno il nuovo mondiale per club. In una stagione che sostanzialmente non è mai finita, perché il Real Madrid ha giocato a giugno la finale di Champions League, a giugno è iniziato l'Europeo o la Coppa America per molti calciatori del Real Madrid, pochi giorni fa è ricominciato il campionato, a giugno 2025 la stagione dovrebbe concludersi con il mondiale per club. E non ho, tra l'altro, anche citato le Olimpiadi e non ho soprattutto citato le pause nazionali che vanno veramente a rovinare a volte i propri piani della gran parte dei natori, chiaramente dei club importanti, ma che comunque rendono davvero problematica la preparazione atletica per diversi club. Carletto ha però la soluzione, ha un nuovo metodo. Sta pensando, insieme al suo staff, di concedere delle vacanze individuali ai suoi calciatori. L'esempio l'ha fatto con Vinicius, se il calciatore va in Brasile, gioca due partite con la nazionale brasiliana, al suo ritorno 4 o 5 giorni di vacanza. Ecco, diciamo subito che questo metodo può funzionare con il Real Madrid per la qualità che ha nella sua rosa, può sicuramente funzionare in una squadra che ha una rosa lunga. Sono molto curioso di vedere cosa riuscirà a fare Carlo Ancelotti e il suo staff, sono curioso di vedere come riuscirà a implementare questa nuova strategia nel corso della stagione. Sono però altrettanto curioso di applicare questo metodo all'interno di FM24, estremizzandolo al massimo. A voi bisogna una rosa lunga? Eh, ragazzi, in questi giorni, quando si parla di rosa lunga, ci viene in mente solo ed esclusivamente una squadra. Il Chelsea. Non si tratta del Chelsea aggiornato alla stagione 24-25 perché sarebbe stato veramente problematico andare ad effettuare l'experiment senza problemi di spogliatoio perché il Chelsea ad ora ha decisamente troppi calciatori. Quindi save classico, database originale, ci ritroviamo a luglio 2023 con la stagione 23-24. Ma soprattutto per questo experiment ho deciso di non andare ad applicare nessun modulo creato da me per non andare a influenzare o negativamente o positivamente l'andamento di questa simulazione. In realtà non è soltanto l'aspetto tattico che non ho curato, ma anche gli allenamenti tutti lasciati al nostro staff. Quello che vado a curare è la scelta di una formazione A e di una formazione B. Abbiamo Chelsea A che è quella che identifico nella formazione più valida, più competitiva e quindi la mia titolare per i Blues segue poi un'altra formazione che poi guardando quelli che sono i protagonisti può essere tranquillamente identificata come un'altra titolare, ma l'ho voluta così definire come Chelsea B. Per farlo ragazzi è davvero molto semplice. Fate le vostre scelte, andate poi sul scelta veloce, gestisci e salva formazione squadra. Così facendo, vedete questa finestra, potete scrivere quello che volete e poi ve la ritroverete proprio dove vi ho mostrato sia Chelsea A che Chelsea B. Facciamo la battuta simpatica perché segui wrestling, non c'è Chelsea Green. Ok, l'ho fatta, basta, fine, addio. Come ho detto inizio video, Ancelotti, queste vacanze saranno individuali, raramente di gruppo, magari un gruppo di poche persone. Qui invece sarà una vacanza a blocco. Prendiamo per esempio il calendario proprio della Premier League. La seconda giornata, Liverpool-Celsea. In questa giornata facciamo finta che gioca la formazione A. La partita la vanno a giocare, saranno coinvolti i ragazzi della formazione A. Al termine della partita si va sulla sezione allenamento. Se appena giocata la partita i calciatori hanno questa condizione fisica, bisogna mandarli in vacanza. Per farlo scegliete tutti i dieci calciatori di movimento, in questo caso prendetene uno, ad esempio Fofanà, intensità allenamento, sotto c'è mando in vacanza. A differenza della realtà dove Ancelotti ha parlato di 4, 5 giorni o 3, qui il minimo è una settimana. E andiamo proprio a inserire una settimana. Attenzione alla condizione, perché se la condizione è bassa, vi ricordo che qui ci sono le pianificazioni intensità allenamento che si basano sulla condizione dei calciatori. Con una condizione così minima da parte di Chilwell, il mandare in vacanza non sarà applicato, perché di default ci sarà il né campo né palestra. Il consiglio che vi do in questo caso è quello di togliere né campo né palestra e mettere o mezzo intensità, intensità normale o doppio intensità. Non importa, perché tanto il calciatore in questione andrà in vacanza e quindi non avrà problemi e a questo punto si potrà tranquillamente farlo. Mentre invece se la condizione fosse rimasta quella di default, quindi né campo né palestra, mettendo né manda in vacanza avevamo appunto né campo né palestra. Questo me ne sono accorto fortunatamente presto, perché altrimenti avrei praticamente rovinato tutto l'experiment. Quindi mi raccomando, se volete mandare in vacanza, anzi dovete mandare in vacanza, se volete replicare questo experiment anche i calciatori con una condizione davvero molto scarsa, qui in alto non dovete mettere né campo né palestra, ma qualsiasi altra cosa, mezzo intensità o intensità normale. Una volta fatto questo, mi dispiace per i portieri perché questo experiment non va a coinvolgere i portieri, mi dispiace per loro perché niente vacanza, rimangono a Londra. Mentre tutti i calciatori di movimento e quindi che di conseguenza li stancano di più, poi ragazzi ognuno è libero, se volete replicare questo experiment potete tranquillamente coinvolgere anche i portieri. Io ho detto non ce n'è bisogno, tanto comunque si alternano e nessun problema. Una volta fatto questo, andiamo avanti di un giorno e ci arriva la notizia del nostro vice. Nove giocatori del Chelsea, tra cui Enzo, Sterling, James, insomma fa tutta la lista, hanno lasciato la squadra per godersi un periodo di ferie. E questo periodo di ferie appunto è di una settimana, con tanto di rientro, con tanto di data di rientro. E questa notizia vi mette poi anche in evidenza le possibili partite che questi calciatori andranno a saltare. Sono nove, non sono dieci perché quando si tratta di un infortunio il calciatore infortunato non può andare in vacanza. Ecco perché non vi ritrovavate i dieci calciatori di movimento. Beh, in questo caso questa è la situazione che potremmo ritrovarci alla prossima partita di Premier League. Però noi facilmente andiamo a settare la formazione B, l'altra squadra, l'altra rosa, che in questo momento sta bene e può effettivamente scendere in campo. Potrà sembrare scontato, banale, ma l'andare in vacanza non ti fa solamente saltare la partita. L'andare in vacanza ti toglie la possibilità di poterti allenare con il gruppo. Sei lontano dalla città, sei lontano da Londra, sei per i fatti tuoi. E quindi durante la settimana il Chelsea nel corso della stagione si è sempre allenato con pochi calciatori, ma alternandosi. E quindi c'è sempre proprio stata questa differenza di un gruppo A che si allena una settimana e di un gruppo B che si allena la prossima, senza però la presenza, la compagnia degli elementi del gruppo A. Qui infatti abbiamo elementi del gruppo B ed elementi che non sono né nell'A né nel B, ma sono proprio riserve. E poi tutti gli elementi del gruppo A che attualmente sono in vacanza. Come detto all'inizio non ho toccato minimamente gli allenamenti. L'unica cosa che ho toccato è stata quella di rimettere in condizione i calciatori che di default quando avviate il save col Chelsea hanno degli infortuni lunghi, ma questo l'ho fatto solamente per renderli disponibili e per poterli effettivamente utilizzare. Mi interessa molto l'aspetto appunto legato agli allenamenti, alla crescita dei calciatori, ai risultati in campo e anche alla felicità degli stessi calciatori. Attualmente ci troviamo tra l'altro ad un affiatamento squadra abbastanza basso, questo potrà portare dei problemi poi a livello di campo, dei risultati nel corso della stagione. Ma l'aspetto che più mi interessa è proprio legato al morale, alla felicità, soprattutto legata proprio agli allenamenti. Saranno soddisfatti i calciatori anche se continueranno ad alternarsi una settimana a malena, una settimana a sua vacanza, una settimana a malena, una settimana a sua in vacanza? Sono davvero molto molto curioso. Quindi può iniziare questo experiment? Andiamo a vedere cosa ha ottenuto il Chelsea in Premier League e nelle coppe a metà stagione, ma soprattutto la condizione dei nostri calciatori, gli infortuni, la felicità, il morale. Andiamo a metà stagione. 19 giornate giocate di Premier League, il Chelsea è terzo in classifica a meno 7 dal primo posto occupato dal Liverpool. I migliori calciatori sembrano effettivamente essere quelli che avevo scelto per la formazione A. Il capocannoniere è Nkunku, il giocatore con media voto più alto è Rhys James, il migliore per numero di assist è ancora Rhys James, il migliore come percentuale dei passaggi completati, il difensore centrale Wesley Fofanà. Più volte uomo partita, a parte malo gusto, sono tutti i calciatori che fanno parte della prima squadra, del Chelsea A. A dicembre, tra Carabao, FA Cup e Premier League, come è messa la condizione fisica dei calciatori, il carico partita, il carico allenamento, i rischi infortuni? Qui abbiamo i giocatori della squadra B, come sempre vengono coinvolti i calciatori che sono attualmente presenti in rosa, che sono attualmente a disposizione, quindi appunto notiamo solamente questi elementi e non gli elementi che in questo momento sono in vacanza. È vero, il Chelsea non ha a che fare con una competizione europea, ma comunque ci sono due competizioni, oltre alla Premier League ci sono anche poi le partite delle nazionali. Il carico partita è medio per la gran parte dei calciatori, per alcuni addirittura leggero, ma stiamo parlando di calciatori che comunque non giocano un elevato numero di partite. Carico allenamento addirittura molto leggero, questo mette bene in evidenza quello che abbiamo fatto in questo experiment. Una settimana si allena e gioca un gruppo, una settimana si allena e gioca un altro gruppo. Per quanto riguarda gli elementi dipende anche da settimana a settimana. Ci sono settimane in cui è modo di allenarti 4-5 giorni, altre invece, nel caso o di un rientro dalle nazionali o di una partita infrasettimanale, le sessioni di allenamento possono essere tranquillamente dimezzate. Gli rischi infortuni comunque rimane, questo non viene tolto, anzi, andremo poi già adesso e poi anche a fine stagione a fare un recap di quelli che sono stati gli infortuni, quanti e che tipologie di infortuni, se muscolari o se dovuti a un contrasto. Però la fatica sembra non esistere, perché tutti i giocatori riportano una stanchezza minima. Prendiamo solamente gli infortuni dal 4 settembre, perché il 12 agosto ancora non era partita effettivamente questo experiment, quindi dal 4 settembre si parte con un infortunio pesante per Sterling, lesione al menisco durante l'allenamento, 4 settimane di stop. Segue poi un infortunio leggerissimo di Nonima 2 che ha riportato poi una contusione alla Caviglia, Caviglia slogata per Colwell, contrattura al propaccio per Nicholas Jackson, insomma diversi infortuni, molti di questi muscolari. Sincero, qui dovete dirmelo voi, se secondo voi siamo nella norma, se sono pochi, se sono comunque tanti. Quindi diciamo che non ci sono troppi infortuni gravi, solamente uno, quello di Disasie, che per l'appunto ha riportato un infortunio davvero pesante, uno strap e muscoli addominali, sono praticamente quasi 3 mesi di stop. Non si tratta però di sfortuna, non si tratta di un colpo, di una botta, di un trauma, ma per la gran parte sono tutti problemi muscolari. La prima metà di campionato, o meglio, la prima parte di campionato è stata abbastanza traumatica. Avevamo segnalato un affettamento abbastanza scarso, in questo momento invece l'affettamento è finalmente a uno stato decente, media, i giocatori si trovano bene insieme. Le prime partite sono però state davvero difficili da gestire. Ci ritroviamo una sconfitta contro Liverpool 3-1, ci ritroviamo un'eliminazione prematura dalla Carabao Cup, seguono poi un pareggio contro l'Everton, una vittoria straordinaria contro il Barney per 6-0, e poi una clamorosa sconfitta, direi storica, contro il Nottingham Forest, non è nata da Brian Clough ma sembra con il Nottingham Forest perché addirittura perdiamo per 6 reti a 0. Da lì in poi inizia probabilmente anche con un affettamento positivo il Chelsea a convincere perché notiamo solamente due sconfitte e due pareggi, Arsenal il pareggio, Newcastle il pareggio e poi sconfitta Liverpool 2-1 e Bournemouth 2-1. Per il resto solo le vittorie e ha convinto sia la squadra A e sia la squadra B. Poi è chiaro che se guardiamo la media voto, i gol, gli assist, io qui leggo solamente nelle prime posizioni solo e esclusivamente i calciatori della squadra A. Ma cosa ne pensano i calciatori di questa tipologia di allenamento? Il mister è pazzo? Ci va bene così? Beh, diciamo che io credo che in un contesto reale i veri professionisti possano effettivamente lamentarsi e allenarsi privatamente. Per cui i calciatori che magari non vogliono faticare top saranno felicissimi. E a Londra sono felicissimi. Cioè sono calciatori che sono soddisfatti di questa tipologia di allenamento, di questo trattamento, di questa gestione da parte allenatore dello staff di gestire in questa maniera, in questo modo decisamente molto particolare gli allenamenti nel corso della stagione. Ma in generale non ci sono problemi. Cioè al Chelsea stanno bene. E vi posso assicurare che non ho toccato nulla, non ho fatto nessuna riunione con la squadra. L'unico problema che si è presentato è stato il portiere. In questo caso Sanchez, che si è lamentato di non essere il titolare della squadra. Direi anche giustamente perché un portiere probabilmente sente di più l'assenza e il non giocare le partite. E a Robert Sanchez è stato effettivamente fastidio questo alternarsi così tanto e praticamente sempre con il secondo portiere. A parte questo però non c'è stata nessuna lamentela proprio legata al minutaggio. Tutti i calciatori soddisfatti di come vengono coinvolti. Anche perché letteralmente giocano tutti. Un altro motivo che mi ha spinto ad effettuare questo experiment è legato anche alla crescita o meno dei calciatori. Perché c'è anche questo fattore. Ora, guardiamo adesso momentaneamente su Cesare Casadei. Avremo modo di approfondirlo nel dettaglio per anche altri calciatori al termine della stagione. Molto meglio farlo al termine della stagione perché al termine della stagione è più mesi per vedere insomma come è cresciuto un calciatore che si allena a settimane alternate. In questo caso Casadei vediamo dei leggeri miglioramenti nelle fisiche. Non lo vedete ma adesso eccoci qua. Dei leggeri miglioramenti nelle qualità mentali. Poco da segnalare riguardo le qualità tecniche. Comunque sia un giocatore che si allena una settimana sì e l'altra no. Un giocatore che gioca una settimana sì e l'altro no. A metà stagione si ritrova questa scheda. Queste caratteristiche migliorate. Stagione conclusa il Chelsea finisce il suo campionato al secondo posto a meno 4 punti dal Liverpool. Vi ricordo che tutte le partite le ho simulate. E sinceramente per aver utilizzato un modulo base FM. Per aver simulato le partite, per aver alternato formazione A e formazione B. Sono decisamente molto soddisfatto di questo experiment. Di come la squadra è riuscita a interpretare direi molto bene questa stagione 23-24 all'interno di Football Manager. La conferma è che comunque la squadra A è superiore alla squadra B. Perché ci ritroviamo dei dati che avevamo già avuto modo di commentare a metà stagione. Un cunco capocannoniere, migliore per media voto e assist Rhys James. C'è un nuovo difensore di Zazie che in realtà faceva parte della squadra B. Quindi è lui quello di avere la miglior pencettura di passaggi completati. Però poi abbiamo Sterling, abbiamo un cuncu. C'è anche Gusto e Moodle che effettivamente però fanno parte della squadra B. Quindi anche la squadra B zitta zitta è riuscita a mettersi in mostra. Ma non è comunque a livello della squadra A. Però questo in realtà a noi importa relativamente. Quello che vogliamo sapere è allenamento, soddisfazione, infortuni. E poi anche lo sviluppo dei calciatori. Facciamo però un mini recap completo di cosa è successo nel corso di questa stagione. Eliminazione prematura in Carabao Cup. Un'altra eliminazione prematura solamente al quarto turno contro il Manchester City. E una classifica che come abbiamo già detto vede il Chelsea concludere il campionato al secondo posto con 81 punti. Schermate infortuni. Con fronte del campionato non siamo messi poi così male. E come sempre però dobbiamo andare a verificare gli infortuni partendo da una specifica data. Quella praticamente di inizio poi del nostro experiment. Come abbiamo detto all'inizio Sterling rappresenta l'inizio degli infortuni da dover segnalare. Ci troviamo appunto con le disasili. L'avevamo già commentato. Però vedendo anche poi dal grafico riportato sulla mia destra. Il periodo in cui di solito ci sono poi tanti infortuni. Non ne abbiamo avuti così tanti. E se ne abbiamo avuti sono stati per lo più leggeri. L'unico infortunio grave è rappresentato da Lavia che ha riportato uno strappo ai muscoli addominali il 25 aprile 2024. Sincero ragazzi è un dato che io non tendo ad analizzare troppo nel corso del mio carriere. Dovrei farlo. Dovrei migliorare questo aspetto. Fatemi sapere se secondo voi sono infortuni che possono andare bene a livello di numero e di gravità. Oppure se siamo oltre la media e quindi diciamo che questa tipologia di sistema, di allenamento, di metodo di Ancelotti può diciamo non essere indicato e può essere invece un fattore che può magari determinare più infortuni. Fatemelo sapere se analizzate meglio questa schermata e un confronto anche magari con quelle che sono le vostre carriere con delle normali sessioni di allenamento e un normale coinvolgimento della vostra rosa. Aggiungo inoltre che ci sono ad esempio alcuni calciatori, non tutti in realtà pochi, come proprio Bettinelli che è il terzo portiere che non considero nemmeno o anche lo stesso Petrovic. Quindi diciamo che sono pochi, la gran parte che leggo sono comunque elementi che ho utilizzato sia nella squadra A e sia nella squadra B. Sulle dinamiche non ci sono sorprese. Da già metà stagione ci eravamo lasciati con delle ottime dinamiche, con degli ottimi valori, morale, allenamento, trattamento, club, gestione, minutaggio, felicità complessiva. Tutto questo è rimasto. Non ci sono calciatori infelici ma la cosa che più ci interessa, più che il trattamento, più che il club, più che il morale in sé è la soddisfazione o meno nell'allenamento e anche poi chiaramente nel minutaggio perché sono queste le due cose importanti. In entrambe sono tutti calciatori soddisfatti, non ce n'è nemmeno uno che è insoddisfatto di come è stato gestito l'allenamento o il suo minutaggio in partita. Gli unici che possono fare storie, ma potete tranquillamente farlo giocare sempre, è il primo portiere che può lamentarsi del fatto che il secondo stia giocando un po' troppe partite rispetto al dovuto. Ritorniamo sulla scheda di Casadei cinque mesi dopo. Ci ricordiamo della scheda di Casadei a dicembre, ecco la scheda di Casadei aggiornata al 19 maggio 2024. Naturalmente l'aumento o meno delle statistiche dipende da calciatore a calciatore, non è chiaramente uguale per tutti. Tutto questo non riguarda solamente Casadei ma riguarda anche altri calciatori del Chelsea. Prendiamo per esempio Nicolas Jackson, attaccante, anche per lui ci sono stati dei significativi miglioramenti nelle fisiche, in realtà pochi, nelle mentali ma anche nelle tecniche. Rimaniamo sempre sui giovani andando ad analizzare la scheda di Caicedo, molti miglioramenti nell'aspetto mentale, qualche miglioramento legato alle caratteristiche fisiche e pochi non significativi miglioramenti sulle qualità tecniche. Qualche modifiche anche a calciatore un attimino più in lacco gli anni come Gallagher, stiamo parlando comunque di un 24enne, di un ragazzo ancora giovane, anche per lui vediamo dei miglioramenti un po' ovunque sia nelle fisiche che nelle tecniche che nelle mentali. Questo naturalmente non coinvolge tutti, ci sono calciatori che magari sono molto vicino o il CA del calciatore è praticamente identico al PA e quindi in questo caso non c'è un miglioramento. Oppure come nel caso dei calciatori over 30 più che un miglioramento può trattarsi di un peggioramento, questo è naturalmente inevitabile dovuto all'età. Però ci rendiamo conto che comunque nonostante questa alternanza tra partite e allenamento, le schede di diversi calciatori sono comunque migliorate. Magari non nello stesso modo, non in una misura di una carriera normale dove magari il miglioramento può essere superiore. Però senza andare a inserire un nostro modulo o a inserire una sessione di allenamento personalizzata, quindi lasciando tutto così di default, le schede dei calciatori sono comunque migliorate nonostante questo trattamento su allenamento e partita. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal risultato di questo experiment sia legato a un fattore di campo sia legato anche a uno sviluppo della scheda dei vari calciatori del Chelsea. Un piccolo problema dovuto però alla mia estremizzazione di questo experiment del voler proprio esasperare il concetto di riposo e di allenamento intensivo normale o comunque di partite giocate. Il problema che si può verificare andando a estremizzare come ho fatto io è quello di calciatori magari lasciati in vacanza, magari della squadra A, calciatori della squadra B che rimangono infortuni o magari pesanti di uno o più elementi della squadra B. Ecco a quel punto siete per forza di cose costretti a sfruttare la vostra primavera e tutto questo è capitato diverse volte perché avete visto comunque diverse infortuni che siano leggeri, medi e pesanti però capitava quell'infortunio proprio durante il giorno della partita e questo mi costringeva a cambiare qualcosa nella formazione. Naturalmente il consiglio che do è quello di non fare esattamente quello che ho fatto io, fare magari come potrebbe fare lo stesso Ancelotti nel corso della stagione insieme al suo staff. Quindi per qualche calciatore, non per tutti, per 3, 4, massimo 5, mandarle in vacanza una settimana e utilizzare altri elementi della rosa. Spero abbiate apprezzato questo video, ragazzi come sempre vi ricordo che mi trovate in live sul canale Viola dal lunedì al venerdì a partire del 14, vi ricordo canale Discord, trovate tutti gli strumenti utili per la vostra carriera di FM24 e non solo e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!